Salve a tutti, vi racconterò oggi di come, partendo da Perugia, abbiamo portato la scienza nei musei europei, studiando centinaia di opere d'arte per svelarne i segreti contenuti all'interno della materia. Quando vediamo un oggetto d'arte dobbiamo pensare che è un miscuglio incredibile, specialissimo di composti chimici, di materiali, materiali che sono stati manipolati dall'artista prima ma poi anche lentamente dal tempo e che riescono a rappresentare l'immagine e l'idea dell'artista adesso e la trasmetteranno nel futuro. Quindi se pensate alla potenza di un lavoro interdisciplinare dove insieme allo storico dell'arte, al restauratore, all'archeologo c'è anche uno scienziato dei materiali, questo dà la possibilità di svelare segreti inaspettati sul metodo di creazione di un'opera d'arte da parte dell'artista ma anche sulla storia dell'oggetto nel tempo e non meno importante sulla conservazione di questo oggetto. Vediamo un esempio di questo connubio arte-scienza. Nel dipinto che vedete in verde, è un prato fiorito di Vincent Van Gogh, dipinto nel 1887, una radiografia in passato aveva rivelato un volto. Questo volto oggi, grazie a misure a luce di sincrotron, è stato dettagliato in modo magnifico. Ne vediamo il colore addirittura, le fattezze. Un volto sottostante il dipinto principale. E adesso che lo vediamo così bene, capiamo che è un volto in realtà noto, noto, simile ad altri dipinti di Vincent Van Gogh. Quindi la storia del dipinto è svelata. Fu realizzato in Olanda in un periodo precedente, probabilmente intorno all'85, portato da Vincent Van Gogh a Parigi e riutilizzato per poi eseguire questo prato fiorito molto più in linea con la moda parigina. Allora, questi connubi felici, arte e scienza, dove svegliamo, misteri dove scopriamo, nuovi dipinti ci sono, ma non sono tanti purtroppo. E il motivo è presto detto. Vediamo cosa è successo questo dipinto per avere questo mistero svelato. È stato innanzitutto portato per 400 chilometri da Otterlo, dove è conservato, ad Hamburgo, a un laboratorio di luce di sincrotrone. Bene, il trasporto di un'opera, ve lo immaginate, è sempre un'operazione pericolosa, non gradita, nonché molto costosa. Altro fatto è che il dipinto è stato campionato. Alcuni frammenti millimetrici, ma frammenti originali di materia di Van Gogh è stata presa con un bisturi e portata in un altro laboratorio di luce di sincrotrone a Grenoble. Bene, quindi questo che potrebbe essere un felice connubio, poi si arena di fronte al fatto che la scienza dei materiali propone metodi non idoni, non adatti. E quindi lo storico dell'arte, il restauratore, spesso preferisce rimanere cieco, non avere informazioni sui materiali, piuttosto che trasportare l'opera o addirittura campionarla. Allora abbiamo la necessità di un'innovazione. Quale può essere l'innovazione? L'idea sarebbe quella di adattare questi metodi scientifici alla peculiarità del settore. E a partire dagli anni 2000, nel mio centro di ricerca, CNR Università, abbiamo pensato di ribaltare la prospettiva. Se l'opera d'arte non può viaggiare in laboratorio, bene che sia il laboratorio che allora si adatta e viaggia va all'opera. Quindi abbiamo iniziato a realizzare, prototipare, adattare una serie di strumentazioni che qui vi mostro, che riuscissero a fare questo lavoro nuovo. E abbiamo utilizzato sempre spettroscopia, quindi interazione luce-materia, e sono una serie di strumentazioni che ci permettono di avere la composizione delle molecole sulle superfici di questi oggetti in modo non invasivo. Le strumentazioni sono disassemblabili e le mettiamo in queste casse. Sembrano un po' le casse dei musicisti, ma in realtà noi invece di chitarra elettrica o sintetizzatore abbiamo una serie di detector laser pulsati a varia energia e così via. La nostra tournée si realizza viaggiando comodamente con questo transporter che qui vedete parcheggiato davanti al museo di Picasso ad Antibes, un posto bellissimo. Allora vi faccio vedere un esempio come nella pratica questo laboratorio mobile, che si chiama MOLAB, lavora. È un documentario che filma il nostro arrivo a Venezia, alla Peggy Guggenheim Collection, dove siamo stati invitati o chiamati a studiare undici dipinti di Jackson Pollock. Jackson Pollock lo conoscete, è il pittore genio e sregolatezza americano, un pioniere dell'arte contemporanea che ha inventato una tecnica, quella del dripping. È morto a 44 anni per incidente stradale, è un po' considerato il James Dean dell'arte contemporanea. Insomma il MOLAB parte, in questo caso è Science on the Boat, andiamo con le nostre casse, con gli strumenti scientifici, sul Canal Grande, arriviamo a Palazzo Venier dei Leoni, che è lì dove è questa magnifica collezione di Peggy Guggenheim. Le scatole vengono portate nel museo e dopo poche ore, per magia, c'è un laboratorio di spettroscopia avanzata nelle sale di esibizione del museo che lavora con i materiali di Pollock. Lavoriamo sempre, se possibile, in presenza del pubblico, che in genere è molto incuriosito e vede quello che sta andando avanti nelle sale del museo. E anche sempre in collaborazione col conservatore, che in questo caso è Luciano Pensa Bene, che insieme a noi decide dove andare a eseguire le misure. Questo che vedete è un fotogramma che ci fa vedere la complicazione, il mistero della materia usata da Pollock. È il fotogramma di un quadro molto grande che è l'icona dell'arte del ventesimo secolo e si chiama alchimi, alchimia appunto. Sono due metri e quaranta per un metro e quaranta di caos materico, come potete vedere, ma è un caos, diciamo, controllato. I materiali, lo studio dei materiali che cosa ci ha insegnato? Abbiamo eseguito oltre 300 punti, una quantità di misure impensabili con un campionamento. Pensate che questo quadro vale più di 150 milioni di dollari. E che cosa si fa? Abbiamo scoperto che i materiali utilizzati da Pollock non sono casuali. Lui, come colori, ad esempio, ne usa dodici, oltre il silver e il black. Ma questi dodici non sono dodici qualunque, sono accoppiati. E ad esempio per il rosso c'è un solfuro di cadmio e selenio e noto di inared. Questi due, che sembrano identici a occhio, in realtà, permettono di avere diversa proprietà fisica in termini di opacità, fluidità del colore. In modo simile, Pollock utilizza qui per la prima volta, e alchimia è il primo quadro che lui non esegue sul cavalletto, ma esegue per terra, schizzando il colore, usa per la prima volta una resina di sintesi, una resina alchidica, che non era materiale d'artista. Lui probabilmente la trova in ferramenta, era prodotta negli anni 40, usata in commercio per dipingere termosifoni, auto e quant'altro. Lui perché la sceglie? Perché la resina alchidica rispetto a un olio tradizionale, un polime, per artisti, ha molta più fluidità per fare il gesto e al contempo velocità di polimerizzazione per bloccare questo gesto sulla superficie. Allora Pollock, che noi immaginiamo tutto genius, regolatezza, in realtà nella pittura è un precisissimo conoscitore dei materiali che seleziona per quello che vuole fare. Questi dati al contempo servono anche per il restauro. Alchimia non era stata mai restaurata prima, proprio per la difficoltà del restauratore di andare a operare con solventi in una materia incognita e imprevedibile come quella dell'arte contemporanea. Bene, dopo i primi successi italiani il MOLAB debutta in Europa e debutta, devo dire, all'inizio con grosso scetticismo da parte dei colleghi scienziati che non ritenevano che noi potessimo avere buoni risultati scientifici lavorando addirittura in un museo, in un sito archeologico, posti strani con strumentazioni portatili. In realtà poi al contempo siamo stati accolti con grande entusiasmo dall'altra parte di questo studio multidisciplinare, perché i restauratori, i conservatori, gli storici dell'arte hanno detto bene, finalmente è una scienza amica che arriva da noi dove c'è bisogno. E anche i risultati scientifici sono presto arrivati. questa è una pagina che vedete di codici precolombiani. Sono oggetti meravigliosi e raccontano con dei pittogrammi la religione, i calendari, l'astronomia, la politica delle popolazioni mesoamericane. Il guaio è che purtroppo di questi codici ne abbiamo solo 16 in tutto il mondo. Perché? Perché sono stati distrutti dai conquistatori spagnoli e questi 16 sopravvissuti sono in Europa perché furono spediti come regali naif particolari ai regnanti che stavano finanziando la spedizione. Quindi tutta la conoscenza della cultura mesoamericana è racchiusa in questi codici che ci narrano proprio la vita, la religione, la politica. Sono in Europa e nessuno li aveva mai studiati prima, vi potete immaginare, non si possono spostare, non si possono campionare. Finché c'è stata la possibilità di studiarli con il MOLAB. Sono conservati ad esempio qui a Roma, alla Biblioteca Vaticana, al Museo Antropologico di Madrid, al British Museum di Londra e al Bodlein University di Oxford. Bene, ne abbiamo studiati non tutti e 16 ma parecchi e abbiamo osservato qualcosa di peculiare. Questi colori che vedete così brillanti, belli, usati dagli scriba per realizzare pittogrammi, hanno una peculiarità. Sono tutti, o perlopiù, colori estratti da fiori. Quindi il fiore veniva macerato in acqua, veniva estratto il colorante e poi adsorbito su argilla e così dipinto. Questo utilizzo peculiare dei fiori in modo così esteso, che non è di altre espressioni artistiche delle popolazioni mesoamericane, viene messo in riferimento alla quella che conosciamo essere la rappresentazione della poesia per la popolazione, che è parlare fiorito o cantare fiorito. E questi codici in effetti venivano declamati alle popolazioni per esprimere proprio la religione, la politica. Quindi è una sorta di materializzazione dell'idea stessa dell'oggetto artistico. Bene, ma vi dicevo, la bellezza di queste misure è anche quella di determinare lo stato di conservazione. Questo è il caso del giallo di Van Gogh dei girasoli. Il giallo di Van Gogh dei girasoli, che è un quadro notissimo, amatissimo, è un giallo di cromo che ha purtroppo la tendenza a virare nel tempo. Ella Hendrix si è accorta di questo problema, conservatrice al Van Gogh Museum, e ha ritirato il dipinto dall'esposizione e che cosa ha fatto? Ha chiamato il MOLAB per analizzarlo. Siamo andati con le nostre strumentazioni, abbiamo anche studiato in laboratorio il processo di degrado, che è una fotoriduzione, e abbiamo scoperto che ce n'è una tipologia di giallo di cromo che tende a escurirsi e l'altra no. E infine abbiamo dato una mappatura di tutto il dipinto per capire esattamente qual è lo stato di conservazione, in quale zone dobbiamo porre attenzione e come illuminare e far tornare il dipinto sicuro in esposizione per il pubblico. Bene, questo è il MOLAB. Il MOLAB lavora e porta la scienza, ma anche gli scienziati, on the road. E negli ultimi dieci anni siamo stati finanziati dalla Commissione europea come prima e unica infrastruttura mobile per i beni culturali. Grazie a questo abbiamo potuto visitare decine di paesi, invitati da musei, siti archeologici, chiese. È stato decisamente un successo oltre le nostre stesse aspettative. E se penso quando nel 2000 avevamo questa idea di un laboratorio mobile, certo non ci saremmo immaginati che oggi altri avessero seguito le nostre orme e ci sono ora altri laboratori in Italia e in Europa che stanno facendo questo tipo di misure. Nell'insieme un approccio non invasivo ha davvero portato un grande impulso alla scienza dei beni culturali, sia in termini di quantità di oggetti studiati, che altrimenti non lo sarebbero stato, ma anche in termini di qualità della ricerca prodotta. E questa qualità perché è aumentata? Sì perché le strumentazioni sono buone, hanno buone performance, ma perché soprattutto queste strumentazioni portate facilitano la interdisciplinarità, ci portano insieme nello stesso luogo e nello stesso tempo con scienziati di discipline diverse, storici dell'arte, restauratori, in empatia di fronte all'opera. Questo è il segreto del MOLAB e questo pensiamo sia il segreto anche di altre tecnologie e scienze quando si applicano ad ambiti interdisciplinari. Grazie. Grazie.